Nico Gronchi, Confesercenti è contenta di questo weekend di Pasqua? Direi assolutamente sì, erano almeno 3-4 anni che per una serie di coincidenze non riuscivamo ad avere un weekend di Pasqua con le caratteristiche di quello appena trascorso. Le cronache lo ricordano, la città è stata invasa dai turisti, ma da turisti anche molto nostrani, non immaginiamoci solamente. Italiani? Assolutamente, anche molti dalla Toscana ad esempio, che è un dato importante. Il tempo un po' così così ha prodotto un effetto che ha portato un po' meno persone verso il mare, verso la costa e ha invaso nelle nostre città d'arte. Firenze in primis e in questi giorni la parte culturale l'ha fatta da leone e questo è importante perché i musei tutti sono stati invasi dai turisti. Il significato è che Firenze ha ancora un appeal in giro per il mondo altissimo, ma il dato nuovo è che ricomincia ad averlo anche per i fiorentini, ricomincia ad averlo per i toscani. Questo è un elemento importante, i ponti come quello appena trascorso sono davvero un gran bel segnale.